La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è in Sud America per un viaggio che ha come obiettivo il rafforzamento di una partnership strategica. Nel complicato contesto geopolitico attuale, l'Unione considera i paesi del continente alleati sempre più preziosi. A Buenos Aires, von der Leyen e il Presidente argentino Alberto Angel Fernandez hanno firmato un memorandum d'intesa per una più stretta cooperazione sulle materie prime. La tappa precedente era stata il Brasile, dove in una conferenza stampa con il Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, von der Leyen aveva esortato ad accelerare la conclusione dell'accordo fra l'Unione e i paesi del Mercosur, sottoscritto nel 2019 ma mai ratificato dagli Stati europei e al momento in stallo. Lo scorso marzo la Commissione aveva chiesto di stabilire i requisiti ambientali più severi ai paesi del blocco del Mercosur, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, per convincere i governi europei a ratificare l'accordo. Ma i cambiamenti e le aggiunte dell'ultimo minuto non convincono Brasilia, che contesta l'approccio sospettoso dell'Unione su un accordo che sarebbe il più grande della sua storia, in termini di volumi delle merci coinvolte. La premissa che deve esistire tra i parceri strategici è la confianza mutua e non la disconfianza e le sanzioni. La lettera inviata dalla Commissione a marzo non menziona in realtà esplicitamente le sanzioni, ma propone di rendere obbligatori alcuni obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi sul clima. Almeno tre paesi dell'Unione hanno minacciato di non ratificare il patto commerciale in assenza di requisiti climatici più severi. Dopo l'Argentina, Ursula von der Leyen visiterà anche Cile e Messico, mentre i negoziatori europei e sudamericani si incontreranno alla fine del mese. La strada dell'accordo fra Unione Europea e Mercosur è tracciata, ma va percorsa fino in fondo per arrivare a un'intesa definitiva.